Ammesso e non concesso che tutto in un paese si riduca ad una gara e quindi a una ricerca di quelli che sono i vincitori ed i vinti. Chi sono i vincitori e chi sono i vinti in questo paese? Certamente gli sconfitti sono tutti gli uomini di cultura che sanno, che potrebbero sapere, che potrebbero dire che invece per quieto vivere o soprattutto per meschine ambizioni personali rinunciano alla propria preparazione, al proprio cervello, alle proprie idee e tacciono. Loro sono i vinti. Loro sono i vinti.